Ora si trova al sicuro in una struttura protetta, ma difficilmente potrà dimenticare all'inferno vissuto nell'angusto appartamento di Rosarno, dove viveva prigioniera. Protagonista della vicenda, una giovane nigeriana di appena 19 anni e il suo carceriere, un connazionale 42enne, Sande Omorodion, richiedente asilo e con i documenti in regola, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, Nell'appartamento, dove la 19enne viveva, segregata con altre tre donne, tutte costrette a prostituirsi, i poliziotti hanno trovato circa 600 euro in contanti. I guadagni delle prestazioni, ha raccontato la ragazza con l'aiuto di un interprete, venivano versati interamente a Omorodion, che giustificava l'infame mercato con la necessità di recuperare i 20.000 euro spesi per far arrivare la giovane nel nostro paese. La vittima ha inoltre raccontato di essere stata prelevata da un centro di accoglienza di Vasto e portata a Rosarno. Da lì è iniziato il suo incubo. Le indagini sono partite da una segnalazione della questura di Campobasso che ha indicato chiaramente agli investigatori il luogo dove la giovane era costretta a prostituirsi. Loredana Colloca per la CNews 24.